nuova puntata di fanny moon e quest'oggi effetti speciali go go proprio inizia la calda stagione e noi non solo ci spogliamo ma ma ci operiamo anche se in questa puntata di effetti speciali ne vedremo è come se qualcuno si fosse operato quasi quasi dall'altra parte ci stanno maledicendo ma gli amici da casa non possono no ancora non ancora non lo sa però lo vedranno lo vedranno nel corso della puntata se rimangono sintonizzati su questa rete va bene però andiamo di corsa perché le puntate si deve sono quelle più brevi quelle più bisogna andare al mare bisogna rilassarsi perché ormai meritato riposo esatto la stagione lavorativa è quasi al termine al termine noi ce ne andiamo in vacanza vediamo non andrà in vacanza io vado in germania beh da te noi andremo in due a settembre si quindi per il feste vediamo tu vai proprio proprio per ovvio tu ma in vacanza te non vai in vacanza comunque no cioè come dire che vai in vacanza non vai in vacanza va bene stiamo facendo un po i cacchi dei ma andiamo di corsa perché di là da quell'altra parte se andiamo lentamente un po diciamo così zombesco ok ci sta un po cadaverico un po cadaverico la nostra puntata invece è un po più briosa un po più fresca ricordiamo i nostri riferimenti per chi da casa volesse partecipare con noi nella nostra trasmissione oppure contattarci perché magari l'artista cantante ballerino o se autoconduttore vuole prendere il nostro posto come può fare basta che ci mandate un sms o ci scrivete su whatsapp al numero che trovate in sovraimpressione ma che è 333 333 8693 oppure sui nostri social quindi youtube iscrivetevi al canale e controllate e non perdetevi le puntate che però vi siete perci comunque oppure mettete un bel po oppure mettete un like sul nostro facebook sulla nostra pagina e mantenetevi sempre aggiornati su quello che vi siete persi su quello che uscirà prossimamente ma è come questa puntata possiamo dire che è in sovraimpressione che rimarremo impressionati questa puntata giusto speriamo speriamo va bene ok il tempo è tiranno perché questa puntata sarà come dire pregna come dice una tecchia conduttrice di fanny moon quindi quindi sommario la visione è un'ottomato buon anno a tutti i nostri amici un'ottomato e quindi anche la visione del mondo è un'ottomato e quindi vi un'ottomato e quindi in modo da direnciare che ci si è un'ottomato l'ottomato bello Grazie a tutti.